Cari amiche e cari amici, articolo di Francesco Lamedola, titolo Basta con l'ipocrisia della preghiera non divisiva. Questo articolo richiede una piccola introduzione per chi non ha seguito i fatti di Lizzano o per chi non ha seguito il decimo toro in questi ultimi 3-4 giorni e i video che se ne sono occupati. Nella diocese di Taranto, in un piccolo paese di nome Lizzano, alcuni fedeli cattolici hanno organizzato un rosario in favore della famiglia naturale. Gruppi LGBT, gender, appena hanno saputo di questo, hanno praticamente circondato la chiesa cercando di impedire la recita del rosario con ampie proteste, urla, striscioni. Il parroco si è spaventato e ha chiamato i carabinieri, in quali come di prassi hanno chiesto i documenti a chi stava fuori a protestare. Era una manifestazione non autorizzata, ecco questo è importante. Arriva la sindaca del paese e innanzitutto inizia a trattare i carabinieri come se fossero dei suoi dipendenti e poi inizia a dire dovete prendere i documenti di chi sta dentro la chiesa e non fuori, stravolgendo ogni regola, ogni regola sia di giurisprudenza che di vivere civile. Fatto sta che questa storia ha avuto eco ma non abbastanza su tutti i giornali, canali come il decimo d'oro per la sua gravità invece se ne è molto occupata. Detto questo, passiamo all'articolo di Lavendola. Ci eravamo appena occupati dei fatti di Lizzano, di Oscesi, di Taranto, fatti in apparenza modensi e quasi inavvertiti a livello nazionale, tuttavia siamo stati costretti a tornarci sopra a sole 24 ore di distanza perché quei fatti hanno avuto una coda che definire spiacevole sarebbe un enfemismo. Un comunicato dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, nel quale il sasso viene scagliato non contro quelli che hanno mostrato tutta la loro prepotenza e arroganza ma contro quelli che hanno subito l'aggressione e l'intolleranza, quindi non contro chi stava fuori la chiesa a protestare, ma contro quei poveretti che pregavano, che recitavano il rosario. Continuo. E così, alla presa di posizione, a caldo e più tardi anche sui social del primo cittadino, si aggiunge ora la voce stonatissima e stridente di un pastore d'anime che tradisce in pieno il mandato di Cristo e si schiera, sia pure in maniera tortuosa e farisaica, contro le pecorelle del suo gregge. Ecco il testo del comunicato dell'arcivescovo. Cari amici, cosa incredibile, arcivescovo che invece di scagliarsi contro questi gruppi LGBT praticamente li difende. Ecco il suo comunicato. Esprimo vivo e rammarico per i fatti recentemente verificatisi nella parrocchia di San Nicola di Lizzano e che hanno avuto una grande eco mediatica, un momento di preghiera che è diventato purtroppo motivo di divisione e di contrapposizione. La chiesa madre di tutti i suoi figli, nella scia del luminoso insegnamento di Papa Francesco, deve essere capace di gettare ponti, allacciare rapporti per costruire opportunità più che ergere muri di separazione. Le persone vanno guardate nelle nostre comunità con gli occhi di Dio nel pieno diritto, cioè di ricevere e sentire vivere da figli di Dio in un'unica famiglia dove ciascuno è simile ma diverso e dove la diversità di ognuno è un dono per la ricchezza della comunità. Così, come non si brandisce l'arma della fede e al contempo non si può brandire quella di qualsiasi ideologia, per tale ragione facciamo nostra l'affermazione di Papa Francesco «Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde». Il Papa mette fuori gioco ogni tipo di razzismo, di esclusione, come pure ogni reazione violenta destinata a rivelarsi a sua volta autodestruttiva. Auspico, pertanto, un confronto dialogico, franco e costruttivo tra le varie parti per lavorare in un clima di pace e serenità costruttivo e propositivo per tutta la comunità lizzanese. Ho fiducia nella comunità lizzanese perché si ristabilisca la serenità e il dialogo franco. Io stesso promotore di un incontro tra parroco e sindaco perché la piazza e chiesa a Lizzano continuano ad essere faro di accoglienza, incontro e crescita civile. Ecco, continua la mendola. Questo è un piccolo perfido caporavoro di ipocrisia pretesca. Bellissima definizione gli dà perché veramente solo un vescovo ipocrita con linguaggio politichese può non prendere la difesa dei fedeli rispetto allo scempio che avevano fatto questi arroganti che stanno fuori la chiesa arrivando a terrorizzare questi poveretti e stanno lì solo a dire il rosario, ma mette tutto in questo calderone secondo l'ottica del luminoso Papa Francesco. Andrò avanti fino alla fine adesso. Questo è un piccolo perfido capolavoro di ipocrisia pretesca e cieca ad orazione del nuovo Vangelo Bergogliano che viene a sostituire il Vangelo di Gesù Cristo. Si noti infatti che per questo pastore di anime il riferimento imprescindibile non è Gesù ma è il luminoso insegnamento di Papa Francesco che consiste principalmente nell'ossessiva gioculatoria di ponti da gettare, muri da battere, una ritorica insulsa, contraria alla realtà, che neppure in questi tempi di Covid-19 viene messa in dubbio. Dunque, partiamo da questo punto. Siete sì o no d'accordo che in tema di dottrina e di morale la primissima voce da ascoltare è quella di Gesù Cristo? Perché questo è il punto. Stabilito questo, vediamo se è vero che Gesù aveva per principio quello di gettare ponti attraverso tutti, compresi quelli che non li vogliono questi ponti, oppure i peccatori impenitenti che restano radicati e anzi fieri del loro peccato. Gesù aveva intenzione di abbattere i muri e gettare i punti contro chiunque dunque. In Matteo 10, 32-38 Gesù dice Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chiama il padre o la madre più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. A noi sembra chiaro, o no? Ora vediamo come spiegava Gesù e per chi pregava Gesù. Prendiamo a riferimento la sola preghiera e le precise parole che lui adoperava, quella che ha insegnato ai suoi discepoli, cioè il Padre Nostro, che Bergoglio poi ha avuto l'impudenza inaudita di modificare a suo piacimento. Come se Gesù avesse bisogno delle correzioni del luminoso Papa Francesco. Il Padre Nostro, iniziamo con queste parole. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Ora, se vale la pastorale dell'inclusione a prescindere, e perciò il dovere di evitare tutto ciò che può essere divisivo, già da queste prime parole, già queste prime parole rappresentano ostacoli. Ostacoli pure pesanti, come macigni. Il Padre, cui si rivolge a Gesù, è annunciato da Gesù, è tutt'uno con Lui. Lui, è all'Apostolo Filippo che gli chiede di mostrare loro il Padre, Gesù risponde, Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre è me? Ecco, di conseguenza, il Padre al quale Gesù ci ha insegnato a pregare, non è un Dio qualsiasi, ma è la prima persona della Santissima Trinità, secondo la dottrina cattolica. Le altre sono Figlio e Spirito Santo, e ne consegue con un cattolico, quando prega, prega per quel Dio, Gesù Cristo, non prega per Allah, Brahma, Vishnu, Yahweh, o chi più ne metta, o la Pachamama. Prega il Dio cattolico, anche se Bergoglio ha detto chiaro e tondo che non esistono dei cattolici, non esiste un Dio cattolico, già con questo ponendosi fuori dal cattolicesimo. Ora vediamo per chi pregava Gesù. Nel Vangelo di Giovanni 17, 1-21, leggiamo, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, li hai dati a me. Essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte, sanno veramente che sono uscito da te, hanno creduto che tu mi hai mandato. Prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato. Li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse alla scrittura. essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei me e io in te. siano anch'essi in noi una sola cosa, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco, in queste parole emergono tre concetti con forza particolare. Primo, Gesù si rivolge a quelli che sono nel mondo, ma non sono nel mondo. Anzi, è proprio scritto che si rifiuta di pregare per il mondo, per quelli che scelgono il mondo. Secondo, che chi crede in Lui e nel Padre Celeste che lo ha mandato, diviene una cosa con essi, come il Padre e il Figlio e il Padre e il Figlio formano una cosa sola. Terzo, che non c'è vera fede se non nella verità e la sua verità è quella insegnata da Gesù. Custodiscili nella verità, Gesù prega il Padre suo, alludendo ai Suoi discepoli. La tua parola è verità. Ecco, siamo d'accordo su questo. non quindi la parola di Maometto o qualche altro tipo di parola, tantomeno della Pachamama. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. E ora torniamo ai fatti di Lizzano e alla nota dell'Arcivesco. I cattolici che si erano riuniti a recitare il Rosario non pregavano contro qualcuno, ma per sostenere la famiglia naturale formata da un uomo e una donna, tra un papà e una mamma e bambini, così come Dio l'ha voluta e come la Bibbia insegna che essa è. la Bibbia dovrebbe essere, fino a prova contraria, il libro dei cattolici e anche loro, dei loro vescovi, mettere sul banco degli imputati quelli che pregano Gesù secondo l'insegnamento di Gesù, come se la loro preghiera creasse divisioni. questa è la negazione della verità di Cristo, perché Gesù Cristo ha detto testualmente in Matteo non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e disse per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una carne sola, così che non sono più di due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Ecco, a noi sembra chiaro, anche perché il parlare di Gesù è molto semplice, il parlare di Gesù è chiaro, netto, sì sì e non no, mentre Bergoglio è sempre ambiguo, tortuoso, sfuggente, perché vuole piacere a tutti, vuole piacere al mondo e si riserva di modificare il senso dei discorsi di Gesù in base alle convenienze. Perciò dovete scegliere o con Gesù o con Bergoglio. E se qualcuno dà ragione a Bergoglio e torto a Gesù, si fa semplicemente conoscere per quello che è. Bene, cari amici, pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.